Salve a tutti, io sono Filippo Biondolillo e benvenuti in questo nuovo video Visto che aprile è stato comunque un mese molto travagliato dove sono successe un sacco di cose bellissime Ho pensato perché non fare i preferiti di aprile Quindi iniziamo Allora, youtuber del mese Intanto ho due youtuber del mese e sono tutte e due italiane La prima è Cleotoms Cleotoms è davvero una youtuber fantastica, l'ho scoperta da poco Anche se è stato davvero un tempo della sua esistenza È stata disponibilissima Ho anche avuto il piacere di parlare su Twitter È stata davvero carina La seconda invece è Martina Piccu Martina Piccu è un altro youtuber che ho scoperto da molto poco Il fattore che lega questi due youtuber è sempre la disponibilità Invece come youtuber non è italiano È Jeffree Star Jeffree Star è davvero magnifico in tutto quello che fa Mi sento molto ispirato quando guardo i suoi video perché fa davvero capo al lavoro di arte È un ragazzo che fa make up Eh, scusate il genere Niente Ha pure una sua linea e i suoi trucchi Oh mio Dio sono fantastici Come cantante del mese invece Scelgo proprio Troy Suivan perché è uno dei miei cantanti preferiti E in questo mese ho ricominciato ad ascoltare tutte le sue canzoni Invece come album del mese c'è Disacting di Sia È davvero un album potente, un album bellissimo È un po' la rinascita di Sia Anche se è un pochino più commerciale degli album scorsi Ma sempre molto apprezzabile con dei testi davvero bellissimi Sia mi colpisce molto per questo Poi invece la canzone del mese per entrare più nei dettagli È Lush Life di Zara Larson Mi dà un'energia strana E poi è molto, diciamo, lo so, molto di buon umore E niente, è fantastica Invece come app del mese ho sento Endlight Endlight è un'app che ti permette di mixare le foto Magari di mettere uno sfondo diverso Oppure, non lo so, ti far rappelire il tuo sfondo Cioè, qualsiasi cosa tu voglia lo puoi fare Con Endlight Credo che sia davvero un'app creativa È poche app Sono così Mi distrisce molto per il prezzo Ma anche se è 3,99 euro Diciamo che è un must love Invece come libro del mese ho scelto The Girl on the Train Best seller È un libro molto bello Io l'ho letto Ancora non l'ho finito Però lo sto leggendo in lingua originale Quindi in inglese Non spoilero perché so che molti di voi lo stanno leggendo Però è molto bello Io in medesimo del programma mister Mi piace anche un po' come è scritto In modo di diario Con le ore, i giorni Passiamo al capo del diametro del mese Che sto appunto indossando È la giocca jeans Questa giocca jeans negli ultimi è andata molto di moda E ho pensato di comprarla E poi ho visto che è versatile al massimo Perché si può mettere con qualsiasi cosa Visto che io adesso principalmente di nero La giocca jeans è diciamo un toccatano Perché lo posso mettere con tutti i miei capi del diametro E quindi con tutto E invece come evento del mese Scelgo appunto Quello Nell'incontro del firma copio del BG Journal Di Greta Manchi Perché comunque Greta è la mia youtuber preferita Ed è la stessa foto del mese E appunto quello che ho scattato con lei E niente E anche diciamo il ricordo del mese Perché è stata la cosa più bella Che appunto è successa in questo mese Oltre ai 1000 iscritti ovviamente Infatti vi ringrazio tantissimo Sto lavorando sul video speciale 1000 iscritti Che tra poco uscirà Ed è un nuovo format nel canale Quindi niente Spero che il video vi sia piaciuto Perché siamo proprio arrivati alla fine Se vi è piaciuto lasciate un like E iscrivetevi ovviamente Vi ringrazio sempre per i miei mille iscritti E prima che io vi auguro questo video Io saluto Vanessa e Damiano Perché mi hanno chiesto un video Niente Alla prossima video